Ciao amici, benuti in una nuova puntata della redazione Consiglia, rubrica dove portiamo giochi che purtroppo non siamo riusciti a recensire al lancio o giochi che appartengono alla nostra collezione. Oggi vi presento Gundam Breaker 4, prodotto da Badai Nanco, sviluppo interno, lingua in inglese e giapponese con i sottotitoli in italiano. Cosa veramente rara, di solito questi giochi sono solo in lingua in inglese o giapponese. Super di 4k si prezzo 90 euro visto che importazione dal Giappone. Super di 4k si genere action cioè azione e parliamo un po' dalla trama. Io ovviamente l'ho accorciata per non fare spoiler né rovinare i colpi di scena. Noi possiamo costruire il nostro Gundam e vivere un'avventura per quanto riguarda la storia del gioco che è abbastanza interessante. Perché lo consigliamo? I giochi sul grande anime storico Gundam ce ne sono stati tantissimi e non tutti purtroppo danno quella sensazione degli scontri tra Bombi Suite che si vedono negli anime. Cioè non hanno ancora raggiunto la perfezione che si vedono nel nel cartone animato preferito che tutti noi siamo cresciuti un po' insieme a Dragon Ball praticamente. Allora insomma il nostro Bombi Suite ancora oggi molto raro da pilotare e non è ancora del tutto perfetto. Cioè i giochi non escono diciamo a essere il top. Buoni ma non il top. Gundam Brick 4 l'ho scoperto vedendo dei thriller e devo dire la verità mi è apparso un buon titolo. Graficamente è abbastanza curato bene, offre delle abitazioni varie e dettagliate e con un frame rate piuttosto stabile. Per quanto riguarda il design del Gundam e degli Zeku anche qui sono ben dettagliati con animazioni fluide e abbastanza vari. Curato anche il comparto sonoro con musica tema ben implementate, un doppiaggio in inglese e giapponese ben fatto e ovviamente con le musiche ben implementate. Insomma dal punto di vista tecnico e sonoro è stato ben curato. Per quanto riguarda il gameplay purtroppo abbiamo un po' lo stesso problema dei vari giochi basati su Gundam. Ovvero questi giochi qua nonostante tutto siano divertenti, comunque belli frenetici e riescono diciamo a rispecchiare un pochettino i combattimenti con i mobi suite purtroppo peccano nella ripetività. Cioè le missioni della campagna sono più o meno sempre quelle. Cioè non variano di missioni missioni. Vai, entri, distruggi il nemico, uccidi il boss, fine livello. Vai, entri, distruggi il nemico, uccidi il boss, fine livello. Stop. Tutto così. Poi c'è ovviamente la classica modalità multiplaria dove si può sfidare gli altri giocatori. Diciamo bene o male ho già detto gli aspetti negativi del gioco. Ma noi perché lo consigliamo? Alla fine non è brutto come gioco perché è una cosa che ho trovato veramente bella in questo gioco qua e che comunque i combattimenti nonostante tutto ci sia un po' nella ripetitività comunque sono abbastanza divertenti e abbastanza impegnativi. Poi un'altra cosa fighissima che ho trovato veramente bella in questo gioco qua che puoi anche creare il tuo mobi suite. Cioè praticamente trovando i prezzi, i pezzi dei vari componenti dei mobi suite che noi affrontiamo e possiamo costruire il nostro robot come vogliamo noi praticamente. Mettere le armi, il busto, la testa, quello che vogliamo noi. E non solo possiamo utilizzarlo nella storia, nella trama base, ma possiamo anche utilizzarlo per quanto riguarda le partite multiplier. Detto questo io dico una cosa, forse prenderlo a prezzo pieno non conviene per quello che offre, per i problemi di ripetitività e via. Però secondo me è un scontattino, un gioco un po' scontato magari in quel caso ci starebbe. A un prezzo diciamo un po' più onesto. Io circa, ma io ci spederei anche 40-50 euro. Non 90 euro perché mi sembrano un po' troppi, sinceramente, per un gioco del genere. Non state tutto che non sia fatto maluccio. Però secondo me, badai neanche col franchise di Gundam potrebbe fare molto ma molto di più. Malgrado in collaborazione con From Software. Se con From Software riescono a fare un gioco di Gundam alla armarete e corre, viene fuori un enorme gioco veramente stupendo. Perché qui il problema di Gundam non è tanto il design dei personaggi e tutto, ma la lignosità dei comandi. Ovvero questo Gundam Breaker 4 a livello di comandi un po' più, diciamo, frenetico rispetto agli altri. Però si precipisce ancora un po' nella lignosità dei comandi. Non è ancora perfetto. Se riescono a superare questa cosa qua, meramente in futuro potremmo avere tra le mani un gioco Gundam definitivo. Da troppo ci sono riusciti con Dragon Ball Budokai 4. Non vedo perché non riescono con Gundam a dargli quella piccola piccola spintarella. Ci stanno provando, però non ancora hanno raggiunto quei livelli. Comunque io ve lo consiglio a un prezzo veramente scontato. Sperando in futuro che Gundam riesca un po' a nessun po' di più. Manca solo da correggere quel difetto, solo quello. a nessun po' di più.